Accusa un malore per del controllo del mezzo, incidente poco prima delle 12 lungo il viale della stazione di Sulmona nei pressi del bivio che porta a Campo di Fano. Protagonista della vicenda è un sulmonese di 62 anni che, mentre era alla guida, è stato colto da un improvviso malore, perdendo il controllo del mezzo. L'auto, una panda, è finita contro il muro mentre il conducente, che era a bordo, avrebbe sbattuto la testa al parabrezza. Sono stati alcuni passanti, gli automobilisti, a contattare il centralino del 118. L'ambulanza è quindi giunta sul posto per trasportare 62enne all'ospedale di Sulmona per tutti gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni, certo che all'inizio sono apparse gravi, ora si sta sottoponendo a tutte le cure, mentre per rilevi di rito è intervenuta la polizia.